Alla donna di oggi, che cosa è successo? Quale donna? Ah, sì, è morta. Che cosa significa? Cosa? Morta. Che significa morta? Buon Dio, che razza di domanda è? Significa che una persona non è più in vita, che ha smesso di vivere. E quando è che si smette di vivere? Quando si è tanto vecchi o tanto malati. E quella donna? Lei ha avuto un grave incidente. Un incidente? Sì, quando ci si fa tanto, tanto male. Come papà? Sì, ma molto più grave. Tanto grave che il tuo corpo non riesce a guarire. E così poi si muore? Sì. Ma di solito le persone non hanno incidenti. Allora non muoiono. No, muoiono più tardi. Quando? Molto più tardi. Quando sono tanto, tanto vecchi. E tutti dobbiamo morire? Sì. Proprio tutti? Sì. Tutti gli esseri umani devono morire. Ma tu no, vero, Anni? Anche io. Tutti. Ma papà no, vero? Anche papà. E anche io. Tu anche. Ma sarà tra tanti anni. A noi succederà tra tanti anni. E non può farci niente nessuno? Succede per forza? Sì. Ma mancano ancora tanti anni. E la mamma? Non è partita, vero? Anche lei è morta. Sì. Anche lei è morta. Ma tanti anni fa.